Per angoli da scoprire in Veneto, siamo venuti a Valdagno, in provincia di Vicenza, al santuario di Santa Maria di Pansacco. Il primo documento che nomina la Chiesa è del settembre del 1243, quando il priore assiste ad un atto pubblico. Si ritiene che nei primi decenni del 1200 fosse un luogo di incontro di una piccola comunità laicale sotto la guida di un sacerdote. La custodia della Chiesa venne affidata nel 1250 alla congregazione dei canonaci regolari di San Marco di Mantova, che aveva in Vicenza due monasteri a San Tommaso e a San Bartolomeo. I canonaci mantovani vennero sostituiti due secoli dopo nel 1445 dai canonaci toscani, chiamati in seguito canonaci lateranensi. Il percorso inizia a sinistra con il capitello dell'Addolorata e prosegue con un marciapiede di pietra costruito nel maggio del 1987. Poco dopo a destra si nota una casa rustica caratterizzata da un porticato ad arcate, sostenute da pilastri e quadrati a scaglie di pietra, un pergolato e finestre superiori con inferriate sporgenti. Sono le impronte di quello che era il convento dei canonici lateranensi. La via che porta al santuario è costituita da una successione di 235 scalini a gruppi di cinque. La scalinata fu costruita nel 1926, sopra un preesistente sentiero sterrato e restaurata nel 2001. Sulla destra, salendo in semplici edicole di pietre a vista, Felice Canton ha raffigurato dal 1965 al 1972 i 15 misteri del rosario. Le figure in bronzo sono ridotte al minimo, ma i loro atteggiamenti sono così intensamente espressivi da aiutare il pellegrino ad una profonda riflessione sul mistero della nostra salvezza. Nel 1483, durante i lavori di restauro, Giorgio Corbito Vicentino fece dipingere l'immagine di Sant'Anna con in braccio Maria Bambina, sull'altare maggiore della chiesa. All'inizio del 1900 l'immagine era quasi del tutto svanita e fu perciò restaurata con l'aggiunta, purtroppo, di particolari decorativi come i riccioli della piccola Maria e la veste damascata di Sant'Anna, che non hanno alcun riscontro nell'arte antica. Nel 1762 i canonici restaurarono ed adornarono il Tempio, pochi anni prima della soppressione del loro ordine, quando il monastero di San Bartolomeo divenne il San Bortolo, primo ospedale di Vicenza. Posta in vendita, la chiesa di Sant'Anna Maria venne acquistata da Andrea della famiglia Andrighetti, il cui stemma è visibile sulla facciata. Nel 1819 il figlio, Giovanni Battista Andrighetti, fece fondere a Venezia due campane, tutt'ora in funzione sulla torre campanaria. Di Sant'Anna Maria si trova a 470 metri di altitudine sul livello del mare, entro alla cinta delle mura dell'ex castello dei Trissino di Panisacco. Essi, feudatari fin dal 1184, consideravano la Valle dell'Agno loro esclusivo possesso e controllavano dall'alto in posizione strategica la strettoia della Valle tra Valdagno e Recoaro. Il luogo qui costituisce uno splendido bel vedere con l'orientamento facilitato dalla stessa chiesetta che, come i santuari di antichissima fondazione, ha la facciata rivolta ad ovest e l'abside verso est.